Buongiorno posso? Buongiorno. Buongiorno a lei, prego. Grazie a lei, buon lavoro. Prego signore. E vuoi anche qualche gente di... Ne ho duecento. Va bene. No, minchia, sono meno solo. Minchia, sono duecento, duecento. Io ne do due, se ne do almeno. Le cose diverse. Il prodotto più vendito. Buongiorno, posso? Sono due diversi, così scegli quello più bello, perché li mettiamo in competizione. Esatto, uno dei due è bello, quale?